allora il nostro gatto che non è che non è il nostro ma lui è zeussino esce con noi fare la passeggiata quando andiamo fuori con la cagnolina e ora vi facciamo vedere zeus andiamo dai andiamo piccolino arriva arriva eccolo all'aria in baggio corri corri che ti aspetta la nuvola eccoli c'è il gattino che esce con noi far la passeggiata con la nuvola arriva arriva zeussino al salutino alla nuvola che roba speciale è proprio una roba speciale e zeus è troppo giocherellone vero piccolino solo noi la natura e il gallo qua che paggiano ciao 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 Grazie. A voi l'inacquare. Alzi la testa adesso. Ciao Zeus. Che aspetti? Saluta i tuoi follower. Sì, ciao. Cerca, cerca sempre qualcosa che si muove. Che aspetti? Ragazzi, chi di voi ha degli animali? Scrivetecelo qui. Qui nei commenti. Sembra un canguro, non un gatto. È un grillo e guarda come fa. Oddio. Vediamo la nuvolina cosa fa, piccolina lei. Ma hai visto che senti che fa così? Sì. Ed è sparito, guarda, è sparito. Non si vede più. Sì, guarda. Nuvoletta cosa senti? Senti tanti bei odorini. Ecco, Spidi Gonzales. Deve fare anche i bisogni fuori, eh. Adesso sta facendo la pupù. È un cagato. Sei un cagato? È un cagato. Grazie. Grazie.